buonasera ragazzi buonasera a tutti la prima cosa che facciamo anzi prima io ringrazio tutti i miei fans per gli auguri del mio compleanno grazie a tutti un bacione un migliaia un migliaia un migliaia un migliaia 57 tozzo oggi 57 fravole facendo nuovo viciariello facendo nuovo viciariello però allora è sempre artami senza offensare nessuno sento ultima notizia Emerson Palmieri ufficiale ufficiale stava sulla fascia sinistra del calcio Napoli no ufficiale a Lione a Lione per un babà per un milione di perché prende quattro milioni tre e mezzo quattro milioni all'anno non si è potuto comprare poi domenica incomincieremo con Mario Rui sulla sinistra eventualmente si va male Mario Rui tra Gesùs ma che è un amaro Gesùs è un amaro che si beca come Gesùs ci stanno facendo non puoi lasciarmi fare come Gesùs perché tanti tutti i calciatori che vengono a Napoli non è mai colpa loro è sempre colpa di chi li compra non gli vie coloro che vengono alla fine ma quando hai messo un bambino a Lione per un milione di prestito pensa tre e mezzo a lui quattro e mezzo a Lione ma non si comprava mai non si comprava mai tutto quanto l'ultimi giorni di mercato facciamo tre quattro botte cinque sei botte ma non è quattro un acquista è stato strepitoso ma non discutiamo cattato per la pulce e io vorrei che con Napoli c'è un scudetto e secondo me pure io penso così ma io penso così sto dicendo se Napoli ha cattato e messo un palmiere e prendiamo un centrocampista e poi dice anche un uomo ma pianici potremo combattere voi scudetti ma per me per me è un mio cuore ma se voi lo vedete in un'altra maniera ci accontentiamo di Gesùs chiamoci a Gesùs mio figlio dice che noi vinceremo lo scudetto e sicuramente sarà come dice lui perché lui non capisce più di me e mia moglie volesse tanto andare a vita una volta di sbagliato e io sarei pronto a dire subito vabbè ci sbagliato non capisco niente non capisco niente aveva raggiunto lo stiamo criticando troppo assai Napoli secondo me Napoli secondo me Napoli la Juve è favorita secondo me è la favorita perché è più forte però io Napoli e Atalanta non siamo venuti a nessuno non siamo venuti a nessuno secondo me le due squadre più compatte Napoli e Atalanta la prima cosa è stata Atalanta le due mesi non le hanno numerate neanche ciù ma non le abbiamo accattate a nessuno cioè non è che ne abbiamo comprato nessuno perché tanto per comprare per sfizia noi abbiamo buchi da col mare abbiamo buchi da col mare ma quello è importante quello è importante se abbiamo su qualche mezzo campi a l'Obocca non sapete niente hai tutto per questo speriamo che la per questo aspetta un paio di giorni si inizia e questo mi posso piacere a l'Obocca fosse un grande calciatore ma io mi devo mancare di ogni giorno io quando tu si non ho visto niente l'Obocca sarà un fuoriclasse assoluto io quando tu si non ho visto niente ma che questo posso farmi aggiungere è capace con il po' di spalletto far diventare due calciatori no, tu puoi essere il tuo pallone, un po' difficile però questo sembra qui è mezzamante non mi sono attaccato, non puoi non mi sono attaccato, vedi come si attaccata ma non mi sono presa 5-6 attaccati e mi sono presa, non mi sono presa non mi sono presa no, ma non mi sono presa dove ti stiamo presa, e mi sono presa e qui ci stiamo ben coperti, ben attrezzati devo capire un altro per me che avventura di scudenza? ah, noi abbiamo un problema, l'uos l'uos o per te? non ho detto per te che ho un problema rosso che lo faccio in un'amovilore anche lì una fila da varia potrà già aprire una tanna hai messo un bambino a Leone qua? hai messo un bambino a Leone? via Leone qua via Leone qua via Leone numero 13 allora vanno a prendere hai messo un bambino hai messo un bambino a Leone qua sto arrivando, scarfate Leone qua che non lo so speriamo che andrà tutto come... vai hai messo un bambino a Leone numero 13 ciao